e questo weekly inizia con commissioni ma prima ma prima un bel caffè ragazzi ci sta un bel caffè e stasera visto che non ci voglio preparare chissà che roba faccio più stelle tagliati con mais li saltiamo in padella con la clo che canta ci vieni mamma noi cuciniamo di teriyaki bene ed è qua penso che sia pronto bene si mangia e ora passiamo all'assaggio quindi alla fine cosa hai messo? booster e mais? basta spazzatriachi e un po' di specie un po' di specie di animali diverse nei nostri recinti beh in effetti nei booster siamo lì sì più o meno tanti auguri a me oggi è il mio compleanno e quindi siamo venuti ad arona a pranzare se troviamo un posto carino questa settimana non siamo fermi già l'altra ma va bene comunque ragazzi ci riaggiorniamo appena appena troviamo il posto dove mangiamo e così vi facciamo vedere che posto figo eh tanta roba è un po' di specie di animali è un po' di specie di animali è un po' di specie di animali e lui cosa vuole? e stasera super sugo fatto in casa ricetta di daco cioè fate in casa perché chi è che ti farebbe una cosa del genere? solo io posso fare certe ricette appunto viustel panna burro un po' di un filo d'olio grana e vabbè poi c'è la nostra salsa dov'è? teriyaki e facciamo poi adesso si cuoce la pasta no ma non hai detto la cosa più brutta non la cosa? ah è la maionese ma se la fai da bene? eh sì è che lega bene il tutto e dà quel gusto dolce ma che cazzo insieme alla teriyaki tanta roba adesso poi quando è pronta la pasta lo assaggiamo lo assaggiamo lo assaggiamo morirò è giusto poi mi è arrivato no eh già c'è il telefono aperto dai vabbè posso andare sull'altra schermata non posso farlo vedere? no che fregatura vabbè è arrivato lo smartwatch del telefono sì finalmente dopo mesi anni anni no però vabbè un mesetto sì ma che un mesetto anche di più da quando ho preso il telefono eh vabbè l'importante è che sia arrivato posso fare le foto a distanza adesso yeah da remoto e si è spento ed ecco qua il nostro piattone proviamolo vai 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 ragazzi guarda che mancelo non lì c'è tu lo senti io non metti ehi si assaggia ma è buono per te ragazzi tanta roba la farò più spesso credo tutte le sere non quando deve mangiare anche tutte le sere no comunque parte di scherzi ragazzi oh a me piace è molto buona chi vuole la ricetta la ricetta ce l'ha tutto insieme non è vero è buona è buona musica allora diciamo due cosine ragazzi sto facendo una fatica boia a riuscire a registrare il vlog infatti questo vlog sarà più corto credo che siamo riuscito adesso vedo di recuperare oggi che è un sabato che spero di riuscire a fare l'esperimento se no st settimana non esce l'esperimento ma comunque dovrei farci ragazzi devo finire di mettere a posto ancora la casa si c'è ancora un bel po' di roba da fare poi ci avrò la live stasera e devo vedere se esco a registrare qualcosa per giovedì che verrà tanta roba ragazzi tanta roba e niente proseguirò e ci vediamo nella prossima clip ragazzi io mi devo abituare a guardare qui 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 vabbè e poi sicuramente dovrò farmi anche un po' la barba eh in effetti sta degenerando un pochettino mamma mia andrò a farmi la barba spero prima finisco due cose poi andrò a farmi la barba promesso iniziamo la sfilza di esperimenti non andati bene vabbè prossimo giro prossimo divertimento o no ehm dirlo giusto nel senso che questo devi fare gli esperimenti no nel senso che ti faccio dico in questa clip che quei pezzi titini di clip che vedono non sono giusti sono quelle le prove che ho fatto che non sono venute vado non credo stia succedendo qualcosa di interessante che palle tu dios qualcosa fa ma non quello che mi aspettavo niente è diventato una schiuma brutta niente fanculo manco questo quindi andiamo ad inserire la nostra colla nel nostro recipiente e infine dovremmo aggiungerci la soda e il mescolare il tutto sono le dosi ragazzi che non so bene quindi andremo un po' a intuito e mescoliamo non era proprio così che doveva venire ragazzi c'è qualcosa che non quadra vabbè niente ragazzi è andata così allora ragazzi abbiamo bisogno di latte mettiamo un po' di latte qui dovremo poi imbevere questo cotone con un po' di sapone vediamo se riesco una volta imbevuto dovremmo andare a aggiungere i coloranti qui prima di aggiungere il nostro cotone non doveva andare a così vedere mi sa che ci vuole a quello alimentare ma che cosa già fa roba già fa roba il latte scusa eh provo allora a metterci qui che succede adesso allora non era proprio ha fatto più effetto prima che cosa sta facendo ho fatto una pizza che cos'è sta roba da un santo cielo ragazzi ma ha fatto più effetto quando gli versavo il colore non chiedetemi perché è venuto qualcosa che non lo so sto facendo l'effetto tipo ho fatto una pizza sto mettendo il pro il salame sulla pizza da un santo cielo perché poi non mette a fuoco telefono vabbè ragazzi ho fatto una pizza non so perché cosa è venuto vabbè l'esperimento non doveva essere questo ma vabbè è venuto fuori qualcosa di particolare lo stesso mi va bene così e niente gli esperimenti quanta luce e niente ragazzi gli esperimenti è venuto quello che non doveva venire così ma vabbè è uscito un'altra cosa mi accontento mi accontento ragazzi purtroppo sono gli altri dovrò ancora vedere bene perché non avendo trovato le dosi giuste non vengono venivano sbagliati tanti ci sono un po' di vorrò anche tanto da pulire adesso e niente poi vabbè domenica facciamo un'altra bella live ancora non solo l'orario ve lo farò sapere su discord e che dire prossima clip ragazzi ok ragazzi ringraziamo ancora yukiko draw per averci fatto questi ultimi 3 emoticons emoji come vogliamo chiamarle ragazzi per il per il canale adesso per essere caricate su discord ve le metto anche qua ve le faccio rivedere tutte quante in più ringraziamola anche perché ci sta facendo adesso sta per finire bene il tutto per il banner l'immagine del canale fatta da lei con noi tre con me la chloe e la sofia con tema dinosauri ragazzi e beh ci sta e beh noi vestiti di animali per far vedere che per riportare il nostro planet zoo ragazzi e niente ringraziamola ancora ragazzi e mi raccomando passate anche da lei a vedere se vi piace vedere i disegni o vi piacciono i disegni passate da lei perché lei è molto brava a disegnare quindi ragazzi direi che passiamo alla prossima clip che dovrebbe essere forse l'ultima perché ormai siamo siamo alle strette ormai che il tempo è poco e niente a dopo comunque ragazzi tutti i link di okiko dro li trovate qua sotto in descrizione mi raccomando mi raccomando bene ragazzi siamo anche oggi arrivati alla fine di questo weekly e niente che dire ragazzi io spero che vi sia piaciuto ho fatto quello che sono riuscito a fare gli esperimenti non ne parliamo adesso voglio vedere se riesco ad aggiungere una nuova categoria non penso che la aggiungerò nel weekly ma verrà messa a parte che riguarda il modellismo vediamo che devo finire un modellino che modellino un diorama che avevo iniziato e che non ho più finito quindi proverò a fare qualche video forse anche velocizzato perché si perché ci vorrà un bel po' non so neanche del loro organizzare perché visto che non ho tanto tempo non lo so fino a tutti in un video vediamo come riuscirò a suddividere il tutto ragazzi quindi direi che adesso come hashtag per vedere chi è arrivato fino a qua alla fine sarà hashtag emoji o emoticon facciamo emoticon che è più facile da scrivere e niente ragazzi quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto e volete aiutarci a crescere potete iscrivervi al canale condividere questo video lasciarci un bel like e un commento qua sotto e potete venire a trovarci nei nostri social network che sono instagram e discord dove potete parlare scrivere fare tutto quello che vi piace sul nostro server ragazzi dove maggiormente io dirò le cose che verranno fatte e che di dire ragazzi un saluto e al prossimo video ciao ciao ciao